Ciao ragazzi, come va? A me hanno spedito un pacco con un bel manga, da Venezia. La mia amica Jenny, dopo che io gli avevo regalato il volume 13 varianti di Demon Slayer, ha voluto regalarmi anche lei un manga. Questo è il mio primo video con la GoPro. Quindi, banda le challenge, andiamo ad aprire. Ed ecco qui il manga. Uno spettacolo. Dal vivo è ancora meglio. Si tratta della Fashion Variant di Jujutsu Kaisen, il primo volume. Che dire, molto bella questa Fashion Variant di Jujutsu Kaisen. Grazie mille da Jenny e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!